buongiorno tolgo il volume come fa? così? dove sta il volume? che le comando? buongiorno allora sono le 11 e 24 anzi 24 si e buongiorno sono le 11 e 24 io mi sono alzata già da un pezzo ho fatto la lavata i piatti e adesso sto praticamente facendo la borsa borsacolas di salma moglia perché stasera devo andare una sfilata di alta moda di alta roma della settimana della moda di roma quindi di quella di luglio e praticamente sto cercando di decidere cosa mettermi penso che mi metterò i jeans e i scarpe a cotacchi e una maglietta che mi metto l'immagine qui con una bella collana perché comunque io vado non vado come invitata vado come stampa barra blogger quindi in teoria non mi è richiesto un dress code molto chiccoso tra l'altro oggi pomeriggio alle 5 avrei un'altra sfilata questa volta però all'ambasciata di Danimarca l'ambasciata del regno di Danimarca come c'è scritto sull'invito solo che praticamente loro hanno risposto circa un'ora fa e io non mi sono riuscita a organizzare per il lavoro perché comunque se tu mi rispondi all'ultimo minuto io non mi dà la possibilità di organizzarmi e c'era tra l'altro anche il dress code come abbigliamento tipo stile ufficio e sinceramente io non è che ho particolarmente niente adatto a queste temperature perché qualcosa ce l'ho la guana tubina ce l'ho anche una maglietta da mettere sopra un top da mettere sopra adeguato solo che con questo caldo non sopravviverai mai e quindi penso che dovrò rinunciare per me quando arriva la settimana della moda di luglio è sempre un macello perché oltre al caldo io se parto da Ostia devo comunque farmi un'ora un'ora e mezza di macchina se parto da Ostia proprio non ci penso perché è una cosa allucinante e quindi appunto penso che qua oggi pomeriggio non ci andrò perché dicendo dicevo è alle 5 quindi io dovrei partire da Ostia alle 3 e mezza e quello è proprio pieno piena attività lavorativa e qui che è ricominciato? Ah è ricominciato panorami cosmici che è uno dei miei programmi preferiti di focus, di guardo focus, top crime e giallo praticamente sempre e la sera vediamo pure paramount per vederci per vederci Will & Grace e basta quindi sto facendo la borsa devo prendere anche la borsa più piccola, i trucchi, una maschera da fare per riassumere le semianze umane perché ho questa facciotta abbastanza distrutta la smalto è questo, io l'ho rimesso ieri sera ma penso che siete un po' sbeccaducce però si chiamano watermelon di Essie e basta niente così tra l'altro la maglietta mi è arrivata proprio ieri mi è precisato da precisare ma sono comprata non mi è arrivata gratis e basta quindi finisco di fare la borsa poi metto in macchina e vado da mamma a dopo ciao Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti